Piove, governo ladro, ma non saranno due gocce d'acqua a impedirci di andare a Pontida. Quasi 100 Pullman, domenica 4 maggio, però aspetto anche te. Ci saranno le televisioni di tutto il mondo, facciamo vedere che ne abbiamo piene le palle, che vogliamo correre, vogliamo vivere, vogliamo sperare, vogliamo lavorare. Due gocce d'acqua, stivale di gomma, cappuccio, poi tanto c'è Renzi che cammina sulle acque, quindi non avremo problemi. Come fai a venire? Pullman, treni, macchine, l'importante è esserci domenica 4 maggio a Pontida. Un numero di telefono vi lascio per sapere da dove partono i Pullman più vicini a casa vostra, a Torino, a Treviso, a Bologna, a Genova, 0266 234 234. E chi non viene è un po' Renzi e un po' Alfano.